Ok, allora, rieccoci. Siamo per affrontare Herobrine e Ciapa è tornato a tradare dei pezzi di armatura con i villager. Dunque, siamo alla quest 4. Find a way to stop Herobrine. If you manage to bring a Wither to our world, we are doomed to chaos and destruction. Non fallire, uccidi Herobrine. Una parola, ok. Ci proveremo. Dunque, allora, tu sei di qui. Io adesso arrivo. Devo rifare le scale. Sì, eccomi. E' tornata. Eccoti qua. Allora, come potete vedere, sono piena di roba addosso. Guarda, io ho appena preso questo Herobrine. Ah, aspetta, io devo cambiare... Oh, grazie. Devo scambiare un po' di carne, cioè un po' di fettine di zombie. Fettine panate. Con delle fettine panate buone. Se vuoi io ne ho 18. Io anche non me la doro. Addivituva? Allora, cinque fette di carne. Però, non so, mi sembra un po' limitati questi. Oh, io voglio una splash. Grazie. Sarò da te. Un po' di carnina, magari. Ok, that's enough. Mettiamo qui un po' di armor. Almeno quelle in ferro non dovrebbero servirmi. Così, andiamo avanti e via. Questa roba qui via. Ah, biscotto, fantastico. Spoglio di archi. Vamos. Andiamo. Si carico? Si pronto da fronte a Eurobrain? Si, sicuro, come al solito. Moriremo una ventima di volte, bravamente. Dai, poi la proviamo... Questo pezzo taglia l'è. Difficile. Proviamo difficile, no? Bellissima, comunque... L'ambientazione. Si, dopo proviamo anche difficile, dai. Vediamo quante volte crepo. Si vuoi fare del male. Allora, qua bisogna andare. Andare a destra. Vieni su. E qua sopra le scarpe. Oh, là c'è il maialotto. Ciao. Che tensione, che ansia. Most fight, Eurobrain. Press button when ready. Dove? Interlatenare. Il Eurobrain, va bene. Satisfield and resurrection. Ah, resurrection, ottimo. You are too late, stupid humans. The Wither is alive and soon will be join us. We will not let you bring a Wither to this world. I think you understand my strength, humans. Now die. Eccolo, eccolo. Oh, si, mamma mia, quanto sei brutto. È velocissimo, tra l'altro. Lancia pure le teste. Così, senza una musica, un sottofondo. Magica è più forte than your will. Motilocco, Eurobrain. Ah, cacchio. Mi stava trasportando me verso l'altro. Io neanche lo vedo, praticamente. Skeleton King, rise this. Come Skeleton King? Di nuovo sto coso con l'elmo. Dalla dubbia sessualità. Vai, io mi occupo del testo. Tu, stirma. Sì, grazie. Troppo gentile. Anche l'elmo di davanti. È stato apposta bene. Ah, ecco, saperlo. Mi tenevo con l'infermo. Zato, my friend, rise. C'è pure Zato e sono morta, se pareva. Ci sono zombie. Oh, zombie. Forza, ricarica. Ottimo. Ok, eccomi. Arrivo. Tornato, tornato. Ciao, Eurobrain. Brodo oggi. No, no. Anche noi abbiamo una resurrection. Che è successo? Che succede? Sto cadendo in un tunnel di... Aia, 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 aia. Ah, it's gone too hard. Non so cosa mi abbiano fatto, ma... Aretha, you are now alive. Help me. Ma che palle, sono in 20.000. No, sti ragni. Non erano morti tutti i ragni. No, 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 no. Oddio, è impossibile. Aspetta. Ritorna la luce. Sì. Tipo... Ah, la strega. La strega Melia. Aspetta, ammassala. Io questa non la sopporto, perché questa mi dà la blindness. Dobbiamo fare fuori i miniboss prima. Va bene. Ok, anche l'ho schierato. Aia, questa mi tira le potte. Si nasconde nel pavimento. My magic is stronger than the wind. Sì, abbiamo capito. Sì, abbiamo capito. Arrivo, arrivo. Sì, circuiti di redstone. Non è interessante. Fammi spawnare nel posto giusto, per favore. Ah, grazie. Sì, la dietro. Sì. Aspetta. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Stregaccia. Villager. Brutta. Tu sei brutta. Ma sì, è morta, sì. Hai appena il tiro. Ecco. Ehi, ho ucciso Erobrine. Ho ucciso Erobrine. Ta ta ta. Che è successo? Perché sto morendo? Non lo so, stai morendo. Eh, come lo tu hai ucciso? Ma perché? Mi ha avuto tutto il drop. È mio. Eh no! Me lo converito io. Aspetta, dove sta? Oh, mia mia. Il disco, il disco. Io voglio inserire il disco. Dai, dai, dai. Allora, guarda, così sono i leggings che ho dato. E ridammi immediatamente. No. Dove sono? Qua di... Devo mettere il disco. No, questi saranno. Protection 2, progettile 2, file protection 1, un breaking 10. E dove devi distribuire il disco? Non lo so. Prenditi i tuoi pantaloni. Pervertito. Andiamo a cercare che cosa. No, io dovevo inserire il disco! Ciappa! No. E vuole a questo. Oh, leggi. Wither says. Questa. Erobran really did summon a Wither. We had to kill him before he can travel through the portal. Perché una voce così di merda? Questa è Lasha che mi ha lasciato. Ah, Lasha. Ottimo. Spaccare. Sharpness 8. Vabbè. Allora ti devi da fare tu col Wither. Riprenditela che siamo per ricevere visite, mi sa. Infatti, il capitolo 5 dice... Kill the Wither. Warning. This boss fight requires coordination and skill. Make sure you are well prepared. You can always leave the fight and put it on hold. Ah, puoi anche metterlo in pausa se tipo ti... Ti stanchi. Ti stavonando, ok. Sì, diciamo ti stavonando. Ma dov'è che è? Non so. Penso di qui. Andiamo alla porta. Qualcosa mi dice che è qui fuori. Guarda che bella, andiamo. Andiamo di là. Eccolo. Hey, we're here! Maybe you should get some upgrades and potions before entering that scary place. Hey, vedi che qui ci sono... Anche le nostre chest. Libri. Libro, 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 leggo io. Allora. Questa guida contiene spoiler. It's meant to have people defeat Wither. E' progettata per aiutare la gente a battere Wither. In the proper way, nel giusto modo. Giro pagina 2 per... Full strategy. Obsidian skeleton drops Crystal Avenger. Ma noi non abbiamo preso nessun Crystal Avenger dai discheletri, no? Che è usato... The Merchant Platform, on the right. Oh, the Wither. By Heaven's Grace Ball. Ah. Vedi, i tizi qua vendono questo Heaven's Grace Ball. No. Questo che vende? No, quelli dentro, ho detto. Quindi là... Ah, ah, ah. Vabbè, direi a dare. Quando Wither gets the 50, you will be able to get in the melee range and finish him. Remember to use the Holy Water to clear out the Obsidian Skeletons. Good luck. Ok, proviamoci. Mentre di quello che ho trovato? Sì, l'ho messa. Pogliamo questi. Boh, non so che altro prendere. Andiamo, va. This is the only boss that you can leave the room. All mechanics will be on hold until you return. Scrimmally hard, make sure you have enough potions and g... Quante potioni abbiamo? Io ho tipo 2 di regen e una splash di instant health. Vediamo se magari mi prendo un'altra splash. Più o meno anch'io e un berserkering potion. Berserking potion. Allora, voglio... Ah, strength, speed. Non male. Sette, orsta. Ecco, io sono entrato, se sbaglio. Bravo. No, non mi bastano. Arrivo. Entra. Garen. Wish burst to you. You saved the teleport in the nether. Ah, in the nether. Fantastico, scadremo anche nella lava. Aspetta, vuole la squadra forte. Sono tutti uguali, ottimo. Bring it on, humans. Let's have some fun. Beh, so che... Sì, io mi sto laccando maledettamente. Madonna, che casino. Victor, Victor. Allora, lui attacca anche gli altri monstri. Allora, vediamo un po' cosa facciamo. Ah, sono le ghastiere, in realtà, quelle che dicevano nel... Siamo oggetti da tradare, insomma. Oh, un istante cosa. Cerchiamo di prendere... Di uccidere più scheletri possibili. Così, prendiamo gli ingredienti e quando possiamo andiamo a tradare. Attaccarlo con l'arco normale è il. Ok, ci saranno delle ghastiere, io ne ho tre. Io ne ho tre. Allora, io te le droppo e tu lo tieni... Tu lo distrai, ok? Ok. Tu vai a tradare, io lo distrago. Aspetta, che ci sta quest'altro. Aspetta, che ci sta quest'altro. Attento. Diavolo, sei. Ok, dammi le tue ghastiere. Ahia. Tieni, sono qua. Ok. Bello. Adesso ho tre. Quattro. Ouch! Ok, tienilo fermo. Devo mangiare. Aspetta, che ci sono i scheletri che mi stanno venendo addosso. Una parola, eh. Guarda, che mi stanno dando altre... robe. Ok, con una fresa l'ho colpita, secondo me, anche. Con la carta l'ho failata, per cui c'è un altro canto. Continuo a recuperare le gaffie. Ne ho cinque, tu? Aspetta. Due, droppate a terra. Mamma mia, che pancia ha questi... Che knockback. Wow. Ok, ti vedo. No, che deficiente. Che nabbata che ho fatto. Le spalle, ciapa. Guardati le spalle. Mai tenere le istante vicino agli archi. Ma mi sono avvelenata. Ok, l'ho atterrato. Vieni qua, vieni qua. Arriva. Corpo, 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 corpo. Oh, no. Ahia. Sono quasi morti. Oh. Eeeh. Metti il disco, metti il disco. È vicino al villager, il disco. Arriva, 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 arriva. Ce l'abbiamo fatta. Quella del disco, credi, ha creato questa giubox. Sì, abbiamo fatto! Poi. Cosa è questa ponte? Non so perché, non mi promette. Una mano, per favore. Ma sta succedendo? Non ho idea. Ah, è cerrato un ponte. Un cuore. Un cuore, un cuore, un cuore. Faccio fuori, con un cuore. Sono morta. Withered away. Ah, bene, mi sono anche tenuto l'arco. Un power 80. What? No. Andiamo. Oh. Che c'è? Non lo so. Giudica tu. Non penso ci sia qualcos'altro adesso. Herman, did you really think you could kill me? Ah, ecco. Adesso, a volte ritornano. No, che lo sarei portato qua. Come? To be continued? Tutto qui? Qua. Oh. Siamo troppo buono. Era stato troppo semplice per noi. Oh. Ma perché mi fai danno? Questo fa? Ma mi stai uccidendo, sto morendo. Ma non c'era il PvP. Vieni qua. Non riesco a vedere dove cammino. Bene, ciapa, che cosa ne pensi di questa avventura? Che sei napo. Certo, se avessi avuto un compo un po' più pro. Fatico. No, adesso la riproviamo in difficile. No, adesso la riproviamo in difficile.